Abbiamo il piacere di ospitare nuovamente ai microfoni di Radio Roma Capitale, Alfonso Selva, consulente finanziario. Bentornato Alfonso. Ciao, ciao Antonello, molte grazie. È un piacere essere qui. È un piacere di ospitarti di nuovo. Alfonso, descrivici in breve la tua attività professionale. Allora, il consulente finanziario, per chi non sa bene cosa sia, io lavoro in banca, mi occupo di banca, investimento, credito e assicurazioni. E aiuto i miei clienti a raggiungere i loro bisogni finanziari per sempre. So che hai scritto anche un libro, Alfonso. Parlacene brevemente. Guarda, sì, è un libro semplice, ho scritto per tutte le persone che non fanno il mio lavoro. Si intitola Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. Ti dà le basi per capire bene come fare, per scegliere tra i vari tipologi di investimento, i pro e i contro di ogni cosa e così sei più consapevole. Per chi volesse conoscerti meglio o saperne di più, dove ti troviamo? Allora, io ho un mio sito, alfonsoselva.it, e poi mi trovano su LinkedIn, su YouTube, il mio canale Finanza Semplice, ho un podcast con quasi 200 puntate, si chiama Finanza Semplice, anche questo. E poi mi possono trovare su tutti i social, su TikTok, su Facebook, dovunque vogliono. Manca solo un saluto ai nostri ascoltatori. Allora, grazie, grazie dell'invito, saluto a tutti. Grazie mille Alfonso.